Controlli al tappeto dei carabinieri, in manetto uno spacciatore 39enne e poi sequestri e una denuncia. I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno arrestato per furto con strappo Catello Sicignano, 39enne di Bosco Reale, già noto alle forze dell'ordine. Il corso Garibaldi ha strappato il borsello ad una 61enne ed è fuggito. I militari erano poco lontani e grazie ad alcuni passanti hanno compreso immediatamente cosa fosse accaduto. Sicignano è stato individuato pochi istanti dopo, ancora in fuga a lungo via del Carmine. È stato bloccato e l'area furtiva recuperata. È ora ai domiciliari in attesa di giudizio. La vittima è rimasta illesa. C'è anche altro nel bilancio dei controlli dei carabinieri stabbiesi. In città sono stati predisposti posti di controllo e pattuglie appiedate. 54 le persone identificate, 28 i veicoli ispezionati, un 74enne di lettere è stato denunciato perché trovato alla guida della sua auto con talga contraffatta. In un tombino lungo la tratta ferroviaria Castellammare Torre Annunziata è rinvenuta una pistola a save senza tappo rosso, probabilmente pronta ad essere recuperata per compiere rapine. Nello stesso nascondiglio è rinvenuto un serbatoio per pistola con un proiettile calibro 9x17 e altri 42 colpi dello stesso calibro. Non solo armi, anche droga. 27 grammi di marijuana, 5 di cocaina e un bilancino per pesare le dosi.